L'Associazione Culturale e i luoghi della scrittura tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove al Padiglione della Regione Marche ha presentato numerosi eventi organizzati con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto e della Regione Marche. Per parlarne oggi il nostro ospite, Mimo Minuto, Presidente dell'Associazione. Sì, al Salone del Libro, grazie alla Regione Marche, al Presidente del Consiglio, ci ha dato l'incarico di organizzare la loro parte per il secondo anno consecutivo. Abbiamo presentato Piceno d'autore, la quattordicesima edizione, quest'anno verterà sulla mafia e la legalità. Abbiamo presentato il primo festival del Memoir che si svolge in Italia, si chiama La Risacca dei Ricordi, diretta da Andrea Vianello, dove ci saranno ospiti veramente importanti, in tre tappe giornaliere, a mattina alle 11 e mezzo in uno stabilimento baneare, a pomeriggio all'Arena e la sera alla Palazzina Azzurra. Poi tre premi letterari, che sono il premio all'editor, quest'anno sarà premiato Antonio Riccardi, direttore editoriale di Abboca, il premio al riconoscimento alla Cassidrice quest'anno è la Garzanti con il suo Presidente Gerardo Colombo. E per ultimo, ma non per ultimo, ma perché per qualità veramente importante, perché premiamo quest'anno come giovane promessa, a Cito, una ragazza bravissima, fra altre cose è stata presentata proprio al Salone del Libro, sarà presente nei primi posti delle vendite, quindi vedo che chi ha scelto da parte dell'associazione ha scelto bene anche quest'anno, non sbagliano mai.